La fine di settembre coinciderà con l'apertura della pneumologia al Mauro Scarlato di Scafati e con l'approvazione di quel piano dell'emergenza dell'Asla di Salerno che contempla per il presidio scafatese l'istituzione del punto di primo intervento nei locali dell'ex pronto soccorso. Ad annunciarlo è il direttore generale dell'Asla di Salerno, Antonio Squillante. Le notizie sono state fornite dal manager in occasione di un sollecito che ha ricevuto e che ha provocato una sua piccata reazione. Ho letto con molta perplessità, ha dichiarato squillante in una nota, il comunicato del consigliere regionale Monica Aliberti. Sembra strano che dopo aver avvisato alle 18.06 del 30 agosto il marito che lunedì 2 settembre alle 16 mi sarei recato al presidio di Scafati per effettuare una ricognizione con i miei collaboratori per definire sul luogo la tempestica per l'apertura del reparto di pneumologia, l'onorevole Monica Aliberti abbia sentito il bisogno di fare un inutile comunicato. Pertanto la sollecitazione, scrive Squillante, fatta nei miei confronti dal consigliere regionale, è del tutto fuori tempo. L'unica spiegazione è che si possa trattare di un banale scamotage per ascriversi il merito che io avrei deciso di venire a Scafati. Io invece mi accontenterò, precisa il direttore generale dell'Asla di Salerno, di aprire quanto prima possibile in sicurezza e rispettando le leggi il reparto di pneumologia. Entro la fine del mese di settembre approverò il piano dell'emergenza dell'Asla di Salerno, nel quale come da impegno preso abbiamo previsto al presidio di Scafati l'istituzione del punto di primo intervento nei locali dell'ex pronto soccorso. Intanto i soliti rumors raccontano che il professore Polverino per accettare Scafati come sede di lavoro abbia chiesto l'adeguamento, anche in termini di arredo, oltre che di nuove apparecchiature i cui costi sarebbero tutt'altro che irrisori. Ovviamente queste sono e restano indiscrezioni. Il nocciolo diventa la pianta organica che sarebbe da capogiro se dovesse essere adeguata alle nuove apparecchiature.